Cioè, guarda che siamo in onda, sei pronto? Certo Lorenzo, sempre pronto. E allora buonasera a tutti e a tutti. Anche questa sera abbiamo un'intervista in esclusiva a un grande dell'arte. Dopo Iago e Michelangelo Pistoletto, questa sera è la volta, pensate, dello street artist più fotografato d'Italia, il Banksy italiano. Guardate un po' chi è. TV Boy, ovvero lo street artist più fotografato d'Italia, il Banksy dello stivale, più bello del mondo. Dietro lo pseudonimo non si nasconde Salvatore Benintende, artista neopop nato a Palermo, classe 1980, residente da tempo a Barcellona. Mi interessa il messaggio, più che creare un alone di mistero intorno a me, ha dichiarato TV Boy sulla sua decisione di non nascondersi. Sanno chi sono e io so che faccio. E proprio per questo, sapendo di giocare sul crinale tra ciò che è legale e ciò che invece viene considerato illegale, mi sono affidato a uno studio di avvocati. Sono loro che mi difendono quando arrivano le multe, ma resto libero di fare la mia arte e di provocare senza nascondermi. TV Boy agisce di pomeriggio con una pettorina gialla. Se sei visibilissimo, afferma, la gente non fa caso a te. E' colui che ha trasformato Papa Francesco in Superman e che ha immortalato il breve idilio giallo-verde con l'ormai mitico bacio Salvini Di Maio, con tanto di scientifica che ha rilevato le impronte sull'opera. E' ospite questa sera di Stato dell'Arte per un'intervista esclusiva. Ed eccolo qui con noi a Stato dell'Arte, TV Boy, buonasera. Grazie Cesare per l'invito. Più fotografato ci tengo a precisare dalla polizia però, non dalla gente. Io credo anche dalla gente però che ti ama molto. Sto parlando appunto di TV Boy con TV Boy al secolo. Salvatore Benintende, collegato dalla sua Barcellona. Sì, sì, è diventata un po' la mia casa da vent'anni che sono qui però rimango sempre legatissimo all'Italia e spesso ci torno con piacere. Da poco comincerà la nostra intervista esclusiva a TV Boy, naturalmente, dopo la sigla. Buonasera a tutte e a tutti. Allora cominciamo subito con il nostro super ospite TV Boy collegato da Barcellona. Ancora una volta buonasera TV Boy al secolo. Salvatore Benintende. Ciao Cesare, grazie dell'invito. Un piacere essere qui con voi. Averti ospite, è un piacere avere anche ospite. Pier Nicola Maria di Iorio collegato dal fantastico Molise da Campobasso. Buonasera Cesare, buonasera TV Boy, buonasera gli ospiti studio. Pier Nicola insegna all'Università degli Studi del Molise, ma è anche amico di TV Boy e curatore di una mostra che abbiamo già raccontato qui a Stato dell'Arte, Banksy, Iago, TV Boy e altre storie controcorrente. Ma abbiamo anche il nostro opinionista di studio. Buonasera, ben trovato a Niccolò Giacomazzi, che ha curato una mostra molto interessante di pittura contemporanea all'Università La Sapienza di Roma. Ci parlerai di questa mostra, ma sarai per tutta la puntata il nostro opinionista. E cominci bene, perché cominci con TV Boy, di spunti ne avrai sicuramente tanti. Allora, TV Boy, Salvatore, innanzitutto, come ti definiresti? Ma guarda, noi artisti, che siamo gente strana, non ci piacciono le definizioni, perché è un modo comunque di incasellare un artista. Io sono stato definito vandalo, graffitaro, artista urbano, artista diciamo a tutto tondo, qualcuno addirittura, qualche critico mi ha definito artiere. Artista neopop, io sono un po' tutto, nel senso ognuno, sono quello che volete che io sia, non mi voglio definire. Però mi sento comunque un artista che si esprime sulla strada, quindi la strada è stata la mia vetrina e le sono debitore, perché mi ha portato a essere un artista riconosciuto. Come nasce il nome TV Boy? A TV Boy nasce perché, allora, i ragazzi di oggi sono dei ragazzi dello smartphone, del cellulare. Io sono nato nel 1980 e sono cresciuto guardando i cartoni animati di Mediaset, tantissima televisione, bombardato dalla pubblicità. E per me TV Boy era il simbolo di questa mia generazione così fortemente, come si può dire, bersagliata dalla televisione, dalla pubblicità. E quindi nasce un po' come un simbolo di ribellione, nel senso ribellarsi alla televisione, uscire di casa a fare delle cose con le proprie mani. E quindi questo nome facile da ricordare è diventato il mio alter ego, insomma, assorge il simbolo di tutta una generazione che è quella degli anni Ottanta. Partiamo dal primo lavoro che abbiamo scelto. L'immagine numero uno per la nostra regia è un tuo lavoro del 2017. L'amore è cieco. Messi e Ronaldo. Della serie dei Baci. Sì, questa è stata un'opera molto importante per la mia carriera perché mi ha aperto un nuovo modo di lavorare. Perché allora a Barcellona era lo stesso giorno, il giorno degli innamorati e il giorno che giocava Barcellona-Madrid. E io volevo lanciare un messaggio di, come si può dire, innanzitutto contro le omofobie, ma anche un messaggio che anche le più grandi rivalità, in fondo, gli opposti si attraggono. Quindi che Messi e Ronaldo per un giorno si baciassero e ne scatolisse come una pace, un amore, un dialogo. Anche il bacio diventa una metafora di dialogo, di intesa. E questa opera è diventata virale, ma non solo a Barcellona, ma in tutto il mondo, in Sud America. Poi loro sono dei calciatori, insomma, seguitissimi. E allora lì ho iniziato a pensare molto di più al messaggio che volevo dare e a legare il messaggio che volevo dare con la mia opera al luogo. E dopo quell'opera sono stato a Roma a fare il bacio tra Trump e il Papa che avevano il primo appuntamento, la loro prima riunione a Roma. E poi da lì nasce tutto il mio modus operandi. Io scelgo un tema d'attualità, scelgo una città e scelgo di lanciare un messaggio, che è quasi sempre un messaggio inclusivo, o comunque un messaggio positivo. L'opera numero due per la nostra regia è Un altro bacio. D'altronde qui a Stato dell'Arte, lo sanno tutti, siamo molto romantici. Questo è il bacio dell'influencer che tu hai realizzato a Milano, che è un po' la tua seconda città in Italia oggi. Sì, perché io sono nato in Sicilia, a Palermo, però i miei genitori si sono trasferiti a Milano quando ero un bambino. Quindi Milano è la città della mia formazione, degli studi. Ho studiato il Politecnico di Milano, quindi è la città che mi ha formato. Poi sono scappato, come per restare in tema, per amore, a Barcellona perché mia moglie è di qui. Barcellona è diventata la mia base operativa da cui poi mi muovo. E questo bacio che fai vedere era una citazione di Fedez e la Ferragni, che sono sempre sulle notizie. E qui diventa più importante catturare il momento per i social in questa società che viverlo. E quindi era una riflessione su come viviamo per ossessionati dall'idea di condividere tutto. Un amore che ha avuto, pare, un triste epilogo. Quindi non sei stato in questo caso un buon profeta. Ma è una saga che non finisce mai, magari poi tornano insieme, chi può dirla. È un po' come la saga della famiglia reale. Nicola, che cosa ti colpisce della ricerca di TV Boy? Che lui è un attento osservatore. Lui riesce a indagare il quotidiano, che molte volte può raccogliere dei significati complessi. E ha questo dono di sintesi che è in grado di arrivare a tutti. Che è quello che un po' nell'arte contemporanea viene preso quasi con distacco. Il fatto di una sintesi diretta che possa generare delle riflessioni immediate. In realtà vediamo come, d'altra parte, se da un punto di vista della critica può risultare appunto banale, se vogliamo. È un qualcosa, una percezione sociale che in realtà poi dopo ha dei feedback diretti che ritornano indietro immediatamente. Perciò questo interesse è per TV Boy. Perché lui c'è, è immediato, comprensibile, ma soprattutto condiviso. La sua forza è proprio quella di essere condiviso. Con l'immagine numero 6, parliamo di una tua opera, TV Boy, del 2017, ci racconti il bene che perdona il male. Il bene è rappresentato da Papa Francesco, il male da Trump. Come nasce quest'opera? Quest'opera era nata appunto, era il primo incontro tra Trump e il Papa, credo che fosse al 2017 o forse 2018. E io volevo lanciare un messaggio, volevo dire che il buono perdona il cattivo, il bene perdona il male. Perché per me il Papa rappresentava in qualche modo il bene, l'ho fatto angelico, con l'aureola e le ali. Il Trump è un po' un diavolaccio, no? C'ha le corna, c'ha la pistola. E quindi volevo dire che bisogna sempre perdonare. Qualcuno l'ha fraintesa ma ha dato del blasfemo. Invece sono stato sorpreso che molti, anche della Chiesa, hanno capito il messaggio che stava dietro l'opera. Quindi è bello che l'opera genera reazioni tanto negative come positive, perché quantomeno non lascia indifferente. Per me è importante anche un po' provocare, scioccare, mettere in discussione un po' i preconcetti con le mie opere. Quante volte sei stato censurato? Ma parecchio. Il caso che è stato più popolare è stato quello del bacio Salvini di Maio, proprio il giorno prima del loro primo accordo. E la mattina vari amici giornalisti mi scrivono, dicono che c'è la guardia di finanza, c'è la scientifica, stanno prendendo le impronte, dice che ci sarà una denuncia. Allora lì ho pensato, ho esagerato. E allora ho chiamato un amico, un collega avvocato, e mi ha detto, guarda sei su tutte le televisioni, quindi la tua visibilità in questo momento è la tua maggiore difesa. Se c'è un danno alla parete pagherai la multa. Però in realtà l'opera è diventata così popolare che insomma non devi nasconderti, non devi vergognarti di niente. E quindi io credo che è stata un po' la prova che attraverso la street art si possano un po' anche, non solo prevedere il futuro, ma anche in qualche modo lasciare un proprio commento su quello che succede nella società. L'arte sempre ha commentato quello che succedeva nel suo tempo. La multa più salata che hai pagato? La multa di solito sono 300 euro per affissione abusiva, perché io ho cambiato la mia tecnica, perché all'inizio lavoravo a spray su un muro, però quando venivo fermato la multa per usare le bombolette spray era molto più salata e prevedeva anche l'arresto. Invece la tecnica dell'affissione, della fish, è considerata come una sorta di come si attaccasse una locandina senza permesso. Quindi le multe sono minori, anche il tempo di esecuzione è inferiore. Quindi ho cambiato la mia tecnica proprio per poter stare nella strada senza autorizzazione, perché purtroppo quando ti incaricano un murales, diciamo così, con approvazione, non è tutto, devi sempre sottoporre un bozzetto e non sei libero. Invece a me della street art piace proprio la massima libertà e poter dire quello che voglio e poter anche scegliere i luoghi che reputo più opportuni. Però sto sempre attento a non scegliere edifici storici o edifici con un valore artistico-culturale o magari una facciata nuova. Non mi piace la street art, una facciata nuova. Preferisco un luogo abbandonato dove c'è una svastica o un fallo disegnato e che in qualche modo la street art possa dargli una nuova vita, una nuova bellezza. Secondo me anche quello è importante, la street art nei luoghi di degrado, nei luoghi dove abbellisce e non dove imbruttisce. Adesso la nostra regia ci mostrerà l'opera numero 7. è del 2020 e si intitola Stop al razzismo dedicata a George Floyd che è stato vittima del razzismo negli Stati Uniti. D'altronde lo sappiamo il razzismo è ancora una piaga molto importante negli Stati Uniti. Ci racconti questo tuo lavoro? All'inizio quando era successo questo fatto dell'assassino e dell'uccisione di George Floyd pensavo fosse un evento locale, invece il razzismo è un tema globale, universale e lo abbiamo anche in Europa, non è qualcosa che è solo americano. Quindi io volevo lanciare il mio messaggio globale. C'era questo luogo a Barcellona che si chiamava il Museo della Memoria e praticamente questo luogo dove io ufficio l'opera era lì vicino e per me aveva un senso speciale, ricordare questa persona e ricordare che è stata uccisa per il razzismo andava detto chiaro e forte. Tra il 24 e il 27 gennaio del 2023 sono comparse in Ucraina a bucia e nei pressi della capitale Kiev 15 murales tuoi perché tu ti sei recato in Ucraina. Noi adesso abbiamo un video e poi ne parliamo qui in studio. Noi adesso abbiamo un video. TV Boy, tu sei stato in Ucraina, lo abbiamo visto, per portare quale messaggio? Per portare un messaggio di pace. Questo è stato il progetto più importante che ho fatto nella mia vita insieme a quello di Open Arms. Mi chiama Angelo, che è il mio manager, un giorno e mi dice fatti la valigia che andiamo in Ucraina. Io gli dico ma tu le guardi la televisione, le telenotizie, cosa sta succedendo lì? Dice un'occasione unica di portare un messaggio di pace in un luogo di guerra e lì mi sono reso conto che aveva ragione perché siamo andati con una ONG CESVI che è stata la prima attiva in Ucraina e ho fatto 15 opere in Kiev, Buccia e Irpin, tre città. E abbiamo anche conosciuto la comunità degli artisti locali e lì mi sono reso conto di essere un privilegiato e che tutti noi che viviamo in Italia e in Europa siamo dei privilegiati perché è diverso andare in un paese di guerra, lanciare un messaggio di speranza e poi tornare a casa propria con la moglie, la figlia, un piatto caldo, un tetto e tutte queste persone che sono lì, tutti questi artisti che sono lì mi hanno confessato di non essere più riusciti a dipingere perché in qualche modo la guerra blocca tutto, ferma tutto, uccide la creatività, uccide la speranza. Quindi per me era importante andare lì a parlare di infanzia, di bambini, di speranza, di pace. Vedete il simbolo della pace, ho usato anche spesso i colori della bandiera ucraina per collegare con la gente del luogo ed è stato un progetto che mi ha fatto riflettere su quanto siamo fortunati, senza che ce ne rendiamo conto. Vediamo alcuni di questi tuoi lavori realizzati in Ucraina, sono le immagini 18, 19 e 20 per la nostra regia. Ti vorrei chiedere come sono stati accolti dalla popolazione locale che è in guerra sotto le bombe? Guarda, io ho sentito un affetto grandissimo da parte delle persone che abbiamo conosciuto. Il primo giorno siamo andati dal sindaco di Bucia che ci ha mostrato le immagini degli errori e voleva vedere qual era il mio progetto. Quando ho visto le immagini di bambini di speranza mi ha detto, la nostra città è tua, fai quello che vuoi perché tu sei qui per lanciare un messaggio di speranza. Sei commosso, ci siamo abbracciati. Ed è stata anche un'emozione fortissima lavorare nelle scuole con i bambini. Un bambino mi ha rubato una bomboletta e ha iniziato a colorare, era il bambino più felice del mondo. Le maestre, soprattutto signore anziane, perché gli uomini sono tutti comunque nell'esercito, ci portavano regali, cioccolatini, coperte. È stata una cosa veramente a livello umano un'esperienza incredibile. Poi ci siamo anche resi conto del pericolo perché un giorno ci siamo svegliati e stavano bombardando la città e nelle zone al limite del nostro hotel e siamo dovuti rimanere bloccati tutto il giorno intero nell'hotel senza poter uscire. E allora lì capisci veramente hai la percezione del rischio, del pericolo che per loro è una nuova normalità ma per te non lo è perché noi non siamo abituati a vivere in un contesto di guerra. E allora lì ti rendi conto del valore delle cose. Però hai una domanda per TV Boy? Una cosa che mi incuriosisce è sapere come mai poi ha scelto di passare da degli atti e delle esperienze anche così drastiche e potenti in luoghi di guerra e poi dopo magari adottare, entrare anche magari in circuiti museali. Mi è sempre interessato capire perché uno street artist si sposta a un certo punto da la strada a dei circuiti invece più costruiti. Perché queste immagini sono potentissime. Questo progetto che hai fatto è di un coraggio incredibile. Ma io ti dico, in realtà non ci vedo nessuna contraddizione nel senso che l'artista ha bisogno ad esempio a volte di leggerezza. Subito dopo essere tornato dall'Ucraina avevo bisogno anche di leggerezza, di qualche cosa perché comunque sono situazioni che ti sconvolgono e ti travolgono. E poi il museo è stata una scelta voluta perché io mi sono accorto che la street art è molto effimera. I miei lavori durano a volte un giorno, a volte ore, a volte settimane. E tutto quello che ho fatto non c'era più. Quindi io avevo bisogno di ricostruire il mio percorso artistico all'interno di un contesto dove la gente potesse vedere tutti i miei lavori nei vari filoni che poi anche grazie alla curatela sono stati costruiti insomma dei filoni, quello dei baci, quello degli eroi. E lì veramente è stato molto importante per me rendermi conto di tutto il materiale che avevo prodotto e del racconto perché poi c'è un vero e proprio racconto di quello che è successo negli ultimi anni e della società. Per cui io mi sento un artista libero e mi piace esprimermi sia sul muro sia sulla tela e ho sempre amato la pittura e credo che per un artista è anche importante confrontarsi con situazioni diverse. È vero che nel museo non c'è l'energia che c'è nella strada però è molto importante documentare quello che fai perché se no non rimane niente e poi i posteri. Passare ora all'opera 26 del 2023 il titolo è Coesistenza perché cosa racconta quest'opera TV Boy? Era appena scoppiata la guerra tra la Palestina e l'Israele e in quel momento la cosa più importante da dire era che le nuove generazioni sono la speranza al futuro che questo conflitto possa avvolgere una fine quindi io volevo rappresentare l'infanzia i bambini della Palestina e dell'Israele abbracciati perché come in qualche modo questa cosa nel futuro possa essere superata e questa è la prima cosa che mi sono sentito di dire però la situazione è evoluta in peggio e ho provato anche a lanciare dei messaggi di supporto alle popolazioni palestinesi che stanno morendo di fame e le immagini sono drammatiche mi hanno anche invitato a recarmi nei luoghi ma purtroppo al momento non è possibile perché non concedono visti per artisti per poter entrare in Cis Giordania quindi bisogna sempre aspettare anche che sia il momento opportuno e qui la mia arte cambia cerco di lanciare dei messaggi più positivi meno critici meno satirici perché comunque l'artista ha anche una responsabilità per quello che comunica per quello che dice Pier Nicola come entra la cronaca nell'arte di TV Boy nel suo processo artistico entra a spadatrat perché lui ha bisogno della cronaca perché come è il suo pane quotidiano perché ha questa esigenza forte di comprendere ciò che gli accade attorno e d'altra parte lui poi dopo lo rappresenta in maniera diretta appunto sì qualche volta con ironia altre volte invece dice abbiamo una responsabilità lui TV Boy come artista noi come curatori voi come giornalisti abbiamo una responsabilità oggettiva è quello di salvaguardare lo stato di diritto i diritti soprattutto dei più piccoli dei più deboli e questo è normale con la street art è giusto che la street art faccia anche questo ed è giusto anche che poi dopo venga riportato nei musei perché non tutti hanno la fortuna di vedere un'opera di street art immaginiamoci di vivere in un luogo di provincia come ad esempio Campobasso oppure Biella dove abbiamo avuto l'occasione di incontrarci sia a me che il pistoletto che Iago e vedere che delle scuole che vengono in un museo e tu gli puoi raccontare ciò che accade dall'altra parte del mondo è una storia che è più efficace se lo vedi attraverso un'opera e non solo dal racconto di comunque del curatore di chi fa la visita io vorrei passare ora ad un'opera decisamente più leggera sempre nel senso di Calvino naturalmente quella numero 21 per la nostra regia il titolo è God save my son che Dio salvi mio figlio si riferisce ovviamente a re Carlo d'Inghilterra questo è stato un po' profeta perché non è che adesso la famiglia reale in effetti britannica se la stia passando molto bene a partire proprio da re Carlo per problemi di salute lo sappiamo ma in realtà questa l'ho realizzata molto prima l'ho realizzata quando era morta la regina e volevo dire citare la canzone God save the queen e trasformarla in qualche cosa di più attuale come un messaggio di incoraggiamento per il re non potevo assolutamente prevedere poi problemi di salute fisica però mi piace molto quando la street art anche sfida il potere come una sorta di ironizzare sul potere cioè a Roma c'era la piazza Pasquino dove facevano le pasquinate il ruolo della street art è anche quello di mettere in dubbio il potere le istituzioni ovviamente sempre cercando di farlo con un pizzico di stile poi come vedi il futuro il futuro in che senso il futuro di fronte a noi in senso globale non soltanto nel campo artistico cedo la domanda allora al curatore eh non vale però non vale tu sei molto diretto vogliamo una risposta da te innanzitutto al futuro si può guardare solo con speranza perché se iniziamo a essere in qualche modo come pessimisti cioè finisce tutto quindi bisogna sempre guardare l'arte la massima espressione della speranza e bisogna guardare al futuro che è speranza non ci sono altre soluzioni in chiusura con chi vorresti fare un'opera a quattro mani ma tu hai citato Pistoletto e Iago Iago è un amico e Pistoletto è un mito e sarebbe bellissimo fare un'opera noi tra insieme e allora speriamo di vederla e di poterla presentare in anteprima ovviamente qui a Stato dell'Arte grazie a Salvatore Benintende alias TV Boy ti aspettiamo in studio quando sarà possibile grazie a Pier Nicola Maria di Iorio Niccolo Giacomazzi rimane qui perché sarà il mio opinionista dell'arte per tutta la puntata ed ora reclam e poi andiamo a Cuba a amici e av